delle vite umane sono state uccise, che solo la voce di Stato si deve sentire, ma questo a noi non ci sta bene, non ci sta bene perché noi le lacrime per i due poliziotti uccisi non le versiamo, i due caduti hanno scelto di impugnare le armi servendo allo Stato, la loro era una scelta consapevole, c'è chi lo può per lo stipendio chi perché crede di dare una mano, chi vuole un minimo di potere, sono caduti facendo quello che facevano, cioè un servizio che danneggia la libertà imponendo con la forza delle leggi di altri i quali sfruttano questi loro servizi e attraverso di essi sfruttano le mazze assocettate di ignoranti il loro è un lavoro da mercenari, non tutta Trieste ha pianto per questi due uomini, non tutti hanno scelto di comprare i fiori da mettere sulla scalinata della questura, simbolo dell'oppressione i giornali non raccontano che nei bar della città i brindisi ci sono stati per la morte dei due poliziotti, c'è una parte della città che non piange perché sa cosa ogni giorno la polizia fa e gli uomini di Pisa fanno a chi si ribella, a chi si arrabatta per campare a chi si ribella, a chi si ribella, a chi si ribella